Torreira, primo gol con il Pescara, una bella soddisfazione. Sì, la verità è il primo gol, è la prima squadra, è una cosa bellissima, quindi devo ringraziare la squadra che mi ha fatto fare questo gol. Una vittoria importante, affronterete il Torino, terzo turno di Coppa Italia, ci tenevate a far bene davanti ai tifosi? Sì, era una partita difficile contro una squadra di Serie G, noi stiamo lavorando forte quindi siamo un po' stanchi, però alla fine abbiamo fatto quello che proviamo in settimana e siamo riusciti a farlo e abbiamo vinto una buona partita. A chi lo dedichi? Non alla Sampdoria? L'anno prossimo sì, speriamo di dedicarlo alla Sampdoria, però quest'anno a tutto il tifoso Pescara, alla mia famiglia, a tutti i miei amici e soprattutto alla squadra. Parlando della gara col Torino, ci sarà questa sfida con una squadra di Serie A, ci terrete a far bene? Sì, sicuramente è una partita bellissima, dove troviamo una squadra forte, dove dobbiamo fare bene solo. Giocherete con una squadra di Serie A, quindi sarà questo un test probante per il Pescara in vista del campionato? Sicuramente non sarà la stessa partita di oggi, sono distinti giocatori, però stiamo lavorando bene, come ti ho detto prima, e continuiamo a fare bene. Qual è la differenza secondo Torrera tra il Pescara dello scorso anno di Oddo e quello di quest'anno, anche se ancora presto per dare giudizi definitivi? L'anno scorso c'erano tantissimi giocatori con una bella esperienza, quest'anno siamo tanti giovani, quindi cambia un po' la cosa dentro il campo.